Sapevi che in Assassin's Creed Valhalla, la prima volta che effettuiamo il salto della fede, possiamo trollare malissimo il nostro istruttore. Una volta atterrati infatti, se invece di uscire dal covone di fieno rimaniamo immobili al suo interno, Hytam si avvicinerà e comincerà a disperarsi, credendo di aver fatto fare una brutta fine al suo allievo. Vichingo burlone